Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori bici da corsa. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi check out link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Trek Emonda SL5, Carbonio. Il freno a doppio disco con ose meccanico è una delle peculiarità che contraddistingue questa proposta LRHD dalle altre presenti sul mercato. Si tratta innanzitutto di una bici da corsa unisex, per questo con un design pensato sia per le donne che per gli uomini che amano le due ruote, per questo realizzata in modo tale da poter assistere praticamente tutti nell'allenamento. La sella è comoda, grazie all'utilizzo di schiuma ricoperta da uno spesso e resistente strato di pelle colorata, che offre una seduta comoda ed evita di terminare la pedalata con dolore. I prezzi bassi sono un altro punto di forza di questa proposta, che è una delle più pratiche sul mercato, così come offre una modifica rapida, istintiva e soprattutto accurata, evitando spiacevoli situazioni. L'unico punto debole di questa bici da corsa LRHD è che le misure non sono personalizzabili, quindi dovrai esaminare attentamente le misure prima di acquistarla. Al numero 4, abbiamo Pinarello bicicletta da corsa. Pinarello è un marchio conosciuto sia dagli esperti che dai principianti poiché fornisce prodotti di buona qualità e resa sorprendente, questa bici da corsa ne è un esempio. A partire dal telaio completamente realizzato in fibra di carbonio, per questo leggero e allo stesso tempo resistente, passando per il sistema di movimento centrale denominato Press Fit 30, ha lì in circa la struttura asimmetrica con adeguato rein di movimento, questa proposta prevede numerosi addempimenti. Si tratta, infatti, di una bici da corsa Pinarello adatta per gli amatori e per chi pratica gran fondo, ma anche per chi vuole allenarsi in profondità e finire per essere il futuro campione delle principali concorrenti nazionali e mondiali. Il design infatti è stato studiato nei minimi dettagli per fornire una maggiore funzionalità su quasi tutte le superfici, tuttavia prima di mettere il prodotto nel carrello virtuale è bene specificare che non è il prodotto più economico in classifica. Al terzo posto, abbiamo la Savade Corwin 5,0700 cbici. Sfruttando il telaio in fibra di carbonio, il marchio Sava sviluppa un design di bici da corsa in cui la leggerezza si combina con una buona qualità delle parti. Tra le varie leghe, il carbonio occupa da tempo i primi posti nella classifica ideale su come scegliere la migliore bici da corsa. Lo stile che lo definisce sviluppa meno attrito rispetto al vento, opzione che ha una ricaduta quando si vuole sfruttare una discesa o un tratto di strada vantaggioso per lo sprint. L'impianto frenante posizionato nella posizione anteriore e aiuta a gestire i movimenti e l'arresto in modo efficiente e con la massima sicurezza. Buon grip delle gomme Michelin, oltre al comfort della sella, anche dopo un paio d'ore di volo. Al numero 2, abbiamo il Savade Card 6,0700 cbici. La maggior parte dei componenti è in fibra di carbonio, dalla forcella alla struttura delle ruote. Il peso è contenuto in una serie di 8 kg. L'efficacia aerodinamica è confermata da numerose parti, in particolare se si guarda alla struttura triangolare del telaio, così da mantenere il controllo e una mentalità il più centrati possibile. La trasmissione Shimano 5800 permette poi di percorrere in lungo e in largo la città e il percorso che si sta affrontando, con un comfort di sella che nasce dall'unione con una qualità italiana Fizi, K. Il montaggio poi richiede poco tempo, puntando alla massima tenuta di strada e prestazioni eccezionali. Poco da dire anche sul rapporto tra spesa e risultati per strada, tanti confermano le qualità del veicolo, leggerezza e controllo speciali per un design da look aggressivo che si scopre anche su strada. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Bianchi in infinito countervail QR. Ricerca e qualità italiana si fondono in un unico stile nel modello infinito CV, sviluppando la migliore bici da corsa per chi vuole attenuare le possibili vibrazioni che si creano naturalmente sulla superficie stradale. Il materiale viscoelastico countervail si occupa infatti di disperdere le vibrazioni, esaltando la qualità e la precisione della guida. Il cambio Shimano Utegra STR8000 permette poi di avere un insieme di allestimenti e rapporti in cui la varietà si integra perfettamente con leggerezza e scalabilità. Lo stile e la qualità dei componenti lanciano la moto verso l'Olimpo dei design racing, con un ritmo che segue di pari passo l'eccezionale proposta, limitando l'acquisto di una sfida paragonabile a specialisti e appassionati. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.